Allora Sorrentino io parto dalle parole bellissime che ha detto Auteri in conferenza stampa ha detto Iacobucci è forte, ha tante esperienze, è pescare sedoc, ma deve aspettare perché Sorrentino sta facendo benissimo. Sì, mi faccio trovare sempre pronto e infatti lo ringrazio per la fiducia che mi sta dando nonostante sono molto più piccolo di Iacobucci quindi lo ringrazio molto sotto questo punto di vista. Io do sempre il massimo anche negli allenamenti per dimostrare che sono pronto per giocarmi sempre il posto da titolare. Avevi dato già un'ottima impressione in quel secondo tempo della partita contro il Napoli era precampionato poi sempre bene quando chiamati in causa o ora stai dando continuità? Sì, l'importante è dare sempre quello, continuità perché se una partita viene bene e poi le altre si fanno male non è buono quindi si dà sempre continuità a quello che si fa al lavoro. Ora dove vuole arrivare anche guardando al futuro Sorrentino? Il più in alto possibile, il più in alto possibile. Sogno? Il sogno è ovviamente di riportare il Pescara dove merita, poi la Juventus è sempre stata la mia squadra preferita.